Musica Dopo la pausa estiva ricominciano gli appuntamenti di Geometri Informazione. Venerdì 27 settembre 2013, infatti, presso la Sala San Ambrogio del Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Milano, in piazza Sant'Ambrogio 21, a Milano, si è svolto l'incontro dal titolo Solare, Edilizia Sostenibile e Consolidamento. Si tratta di una conferma della riuscita collaborazione del Collegio con Action Group per creare occasioni di incontro, formazione e aggiornamento per Geometri e Geometri Laureati della provincia di Milano. La partecipazione all'incontro, infatti, dà diritto al riconoscimento di due crediti formativi. Intervenuto in qualità di relatore, anche Cristiano Montagnier, responsabile e promoter MTSPA. MTSPA è un'azienda produttrice italiana che produce materiale semilavorato plastico e ottoname e fornisce un sistema completo per quanto riguarda riscaldamento con sistemi efficienti e con fonti rinnovabili. E' necessario portare alcune informazioni che magari sono sconosciute, soprattutto nell'ambito della progettazione, per dare idee nuove ai progettisti e soprattutto per fornire quelle che possono essere delle idee nuove da proporre al cliente e che possono poi dare un efficientamento energetico agli edifici dei loro clienti.